Ladies and gentlemen, su RDS, la prima versione originale di 10 RDS Cos'è che ti è successo? Non so, è tutto bloccato adesso Ma dov'è che sarai? Bo ci sono gli operai La 10 sai che ogni notte ha sempre le corsie ridotte Se ti muovi poi scrivimi Ci sta pure un tir di traverso E si deve viaggiare a rilento Forse esco qui all'ERICI Si vabbè ma decidi ti Non so, amore, adesso ci penso Io sono solo come un broccoletto Qui va sempre a finire così C'è una casa e tu all'autogreen Ma perché ce l'hai con me? Io sono in panico Guarda come piove forte questo sabato Come sempre questa autostrada Ogni due per tre si intasa E Belandi sei cara E li paghi anche l'aria Adesso scendo e vengo a piedi da, piedi da te Che se sto qui arrivo martedì Martedì tre Fare un metro su st'autostrada Fare prima venire da Praga Tu scrivimi tra un'ora Quanto ci vorrà ancora Dieci ultime svolte Dieci? Dieci, dieci ultime svolte Allora acceno da solo Mi chiami sempre l'ultimo Te l'ho detto Prendi l'ore Non c'è andare sabato che è pieno di gente Dai Su RDS con il peggio più peggio Annali Annali